Prosegue regolarmente all'interno del centro d'accoglienza di Pian del Lago a Caltanissetta la quarantena per i migranti entrati nei giorni scorsi. Gli ospiti sono stati sottoposti al test sierologico con esito negativo al momento dello sbarco e sono stati sottoposti subito dopo l'ingresso nella struttura di Caltanissetta al tampone dalla locale ASP, tampone che è risultato negativo per tutti. Un secondo tampone di controllo verrà effettuato al termine della quarantena. Sotto il profilo della vigilanza il prefetto di Caltanissetta ha disposto che siano intensificati i controlli da parte delle forze dell'ordine affinché il periodo di quarantena venga rispettato.